O Maria che quella notte nel silenzio hai capito l'importanza del suo messaggio, del suo regno senza fine e del tuo eterno ruolo di nostra madre. E' bello avverti per sempre con noi, tu sei esempio di grande umiltà, con il coraggio che hai dimostrato, ci hai donato Gesù. Quando siamo nell'errore e ci sentiamo abbandonati, la tua immagine ai nostri occhi è di madre premurosa che la porta del perdono apre il figlio che ritorna. E' bello avverti per sempre con noi, tu sei esempio di grande umiltà, con il coraggio che hai dimostrato, ci hai donato Gesù. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti